Il canale internazionale Russia Planeta non sarà più visibile per tre mesi in Lituania. La commissione radiotelevisiva lituana, organo di controllo delle emissioni, ha adottato la sanzione contro la TV russa con l'accusa di fare propaganda nella sua copertura del conflitto ucraino, incitando alla guerra e all'odio. Un negoziato con l'emittente per giungere a un accordo non ha sortito alcun risultato. È la prima volta nell'Unione Europea che un'agenzia di controllo prende una decisione del genere, dice il presidente della commissione. Forse qualcuno può contestare alcuni dettagli, ma credo che stiamo rispettando in pieno le regole. Registrata in Svezia, Russia Planeta fa parte della galassia della compagnia di stato televisiva russa VGTRK, che è tra l'altro azionista di Euronews. Il lituani è seguita in particolare dai russofoni, che rappresentano il 6% della popolazione.